Ciao ragazzi, siamo in macchina, qua c'è Jay che sta guidando e stiamo iniziando la nostra, insomma, serata di commissioni e noi abbiamo una macchina gigante perché stasera Jay deve andare a prendere anche il barbecue perché ve l'ho detto che praticamente sabato, sì, sabato pomeriggio facciamo il barbecue però non è che puoi fare il barbecue se non è il barbecue, quindi devi comprarti il barbecue quindi abbiamo preso il barbecue e quindi stasera lui va a ritirarlo alla fine non è arrivato il, ah no, non ve l'ho raccontato del letto, vabbè, questo come ve l'ho raccontato l'altro giorno, insomma e niente, quindi adesso stiamo andando a vedere il materasso, un negozio tipo di arredamento per vedere cose extra forse ikea e la spesa ok ragazzi siamo andati in questo negozio sleep country perché praticamente stiamo cercando un materasso e visto che eravamo in zona abbiamo detto, vabbè, andiamo a vedere chissà cosa ci sarà dentro ragazzi c'era un materasso che costava preparatevi perché, boh, a me è venuto un infarto quando quella tipa mi ha detto che il materasso che stavo provando costava diciotto mila dollari diciotto mila diciotto mila dollari ma siamo pazzi baby, cosa pensi su 18.000 dollari? sono iniziato, davvero penso che è incredibile se il mondo che viviamo in charge 18.000 dollari per le matrici penso che siamo ok non mi piace sono solo a casa che Jay sarà via per lavoro per fortuna solo per un giorno visto che sono solo a casa e lui ci è andato via siamo andati a fare un po' di siamo andati a fare appunto un po' di commissioni come vi ho detto ora vi racconta anche cosa abbiamo fatto insomma perché non ho filmato tanto in generale in Cina non filmo tanto ah perché magari immagino si è dimenticato il tappo vabbè in generale non filmo tanto per quanto riguarda quando sono in giro perché magari sono impegnata in quello che sto facendo e baby, io e Jay siamo sempre di corsa cioè oggi avrò il diretto ma è il giorno che tu non mi dirai che devi andare da qualche parte che dobbiamo fare questo di corsa crollerà il mondo comunque siamo andati a fare la spesa e quindi visto che sono da sola a casa fatemi compagnia insomma voi fate compagnia a me mentre io mi filmo anche se alla fine che compagnia mi fate cioè in senso io sto parlando da sola però sto più folli in realtà questo video lo vedrete quindi non sto parlando da sola sto parlando con voi ok comunque vi spiego che meno quali il game plan per stasera adesso sono le è abbastanza tardi allora adesso sono le 9 vedete sono le sono le 9 e 36 non so se potete vedere le 21 e 36 e quello che voglio fare è non so se ce riuscirò è togliere tutta questa cosa tutta della spesa eccetera eccetera dopo aver tolto tutto e quindi aver repulito anche la cucina ovviamente voglio rompere le scatole perché ci sono arrivate delle le scrivanie per l'ufficio e qualcos'altro e domani viene vengono le persone domani mattina vengono le persone a prendere la spazzatura quindi bisogna mettere la spazzatura fuori quindi voglio buttare tutte le scatole perché non voglio avere scatole in casa perché appunto poi sabato abbiamo gli ospiti e quindi voglio cercare di fare quello quindi proviamo e vediamo e spero in un'ora di finire tutto incrociamo le dita che in un'ora finisco tutto perché se in un'ora finisco tutto direi che non è niente male quindi 3 2 1 let's go comunque siamo andati anche all'ikea perché dovevo prendere un materasso ma se avete visto le storie avete visto e ho trovato le pentole ad induzione perché una di voi mi aveva detto che c'erano le pentole ad induzione dall'ikea e che funzionano le abbiamo pagate veramente poco perché per 7 pentole abbiamo pagato quanto una pentola che abbiamo pagato su amazon quindi devo dire che sono un po' scettica su queste pentole quindi adesso la voglio provare anche se è carissimo io sono già morta e non ho ancora dissutto le scatole e non ho ancora messo la spazzatura e non ho ancora pulito la cucina ma ragazzi dobbiamo fare tutto perché letteralmente domani sono piena di cose da fare in più da costruire Jay venerdì mattina deve pitturare perché vuole pitturare il soggiorno di venerdì mattina lasciamo stare e tra parentesi domani abbiamo pure un ospite che sta a casa nostra ovvero un nostro amico se mi seguite su instagram tra parentesi scusate se sparisco dal frame però ups se mi seguite su instagram l'avrete visto si chiama Iaro e appunto sarà domani e insomma lui sarà il primo ospite che proverà le airbnb se così possiamo dire comunque ora voglio provare troppo la pentola e vedere se va quindi proviamola quindi proviamola mettiamoci un po' di acqua e vediamo la prova del nove la pentola funzionerà o non funzionerà chi lo sa allora ok funziona per un secondo ero tipo no ma non sta funzionando ma non so se vedete l'acqua sta praticamente già bollendo ok che non abbiamo messo tanta ma ragazzi sono passati cos'è cinque secondi non è anche progetto abbiamo questo qui ovvero devo aprire queste due scrivanie rompere la scatola rompere questo mettere nel cassetto e finire quindi mettiamoci che sarà un bel lavoro buongiorno ragazzi e buon giovedì qui è giovedì pomeriggio e di cose da fare ce ne sono e non ce ne sono poche allora alla fine ieri sera ho finito alle 11.50 cioè io volevo finire alle 10 povera illusa Francesca io convinta di finire ovviamente non ho finito quindi sono veramente stanca però ovviamente bisogna anche lavorare quindi quello diciamo il lavoro di tutti i giorni è finito e quindi ora devo occuparmi della casa perché cosa succede domani Jay si occuperà della casa tutto il giorno perché io sono fuori sono fuori per lavoro e quindi non posso stare in casa e fare diciamo le cose che faccio nel pomeriggio quindi lui domani pitturerà questa zona quindi pitturerà il soggiorno la sala da pranzo e l'ufficio però cosa succede ieri sono arrivati ancora dei mobili e oggi ne devono arrivare altri stasera abbiamo un ospite a cena quindi io adesso vi faccio vedere le condizioni della casa mi vergogno un pochino ma onestamente c'è veramente siamo da soli ed è difficile fare tutto e fare tutto da soli quindi sto cercando di tirarmi su di dire ok va bene la casa è un casino ma non importa ce la faremo perché non solo io devo mettere a posto la casa adesso vabbè vi faccio vedere il casino ma sabato abbiamo il barbecue e quindi ovviamente vengono gli ospiti e non è che puoi avere la casa incasinata quindi io direi inizio con qualcosa di semplice e vi porto su vi faccio vedere un po' il casino in casa e poi bene è arrivato un altro mobile giustamente e inoltre il tipo manco mi ha bussato la porta da sola a casa devo tirare questo bene ok let's do this ok ce l'abbiamo fatta e ve l'ho detto che avevo altri mobili da montare che cos'è questa scatola questa scatola gigante io non so adesso vi faccio vedere il casino a casa praticamente mi siedo perché adesso sono stanca fatemi sedere ok perché quello lì è una parte del letto se in teoria ci avete visto montare il letto nell'altro vlog praticamente in Canada cioè io non lo sapevo quando voi comprate in Italia il materasso il materasso arriva con le doghe cioè sono solo io che pensavo che il materasso arrivasse con le doghe oppure in Italia il materasso non arriva con le doghe comunque abbiamo ordinato la struttura del letto e io mi aspettavo paghi non paghi poco cacchio ci saranno anche le doghe come è normale che sia e invece no in Canada se devi dire le doghe le doghe sono un pezzo a parte cioè qui si chiama box spring perché è praticamente una scatola cioè praticamente a un'altezza ed è piena di doghe e te la devi costruire tu e devi mettere quello dentro alla struttura del letto quindi in pratica quando abbiamo finito di montare quella sera nel vlog dell'altra settimana adesso ragazzi non mi ricordo quale vlog perché vi ho fatto 1500 vlog ma se siete qua e seguite un po' come stanno andando i processi della casa più o meno sapete cosa sta succedendo quando abbiamo finito di montare con J.R.E.L. la base del letto abbiamo messo il materasso il materasso è letteralmente cioè caduto praticamente dentro alla base perché praticamente non c'erano le doghe e io sono rimasta subita a questa cosa ovviamente J.E. non mi aveva detto niente J.E. non lo sapeva ma anche C.E. del karma non sa se cose non si sa come gli uomini che per la casa non sanno niente comunque a parte questo quindi abbiamo ordinato quello e finalmente adesso dopo un'altra settimana è arrivato così per l'Airbnb abbiamo preso anche le doghe così finalmente sarà un letto completo perché abbiamo dormito sul materasso senza doghe quindi vi lascio immaginare come abbiamo dormito questi giorni quindi devo fare anche quello e devo montare anche quello oggi ma soprattutto sto in fame di Ferex se l'avesse bussato gli avrei chiesto se me lo potesse portare giù e invece lo dovremmo fare noi io e voi assieme portiamo giù le doghe del letto yes ci abbiamo fatta quando gli uomini pensano che noi abbiamo bisogno di loro we can do everything that we fucking want prima cosa che ho fatto prima di montare tutto e mettere a posto la cucina non c'è cosa più bella di avere la cucina pulita so che ci sono ancora alcune cose lì ma le toglierò però non è importante l'importante era avere la cucina pulita e la cucina è pulita quindi yay ora andiamo a fare la prima cosa importante ovvero anzi prima devo prendermi il caricabatteria nel telefono perché il telefono è morto come sempre quindi il telefono carica batteria ma adesso andiamo giù perché voglio montare la base del letto quella è la priorità prima anche delle come si dice delle scrivanie perché appunto questa qui è la base del letto la base del letto è più importante quindi io ora vi metto qui quando vi ho detto che il materasso è praticamente andato giù è perché non ci sono le doghe quindi c'è un sacco di spazio tra la testata del letto e il materasso quindi abbiamo dormito così in questi giorni ora tolgo questo e proviamo a montarlo A presto E' Grazie a tutti. Come ce l'ho fatta? Ok ragazzi, io prendo una pausa, mi sono ripresa psicologicamente dal trauma del fatto di essere totalmente incapace o semplicemente dal fatto che diciamo che a certe volte non è proprio la cosa più semplice. Però, detto fatto, la base è montata, ora dobbiamo mettere solo più le doghe e poi è finita, quindi questo processo secondo me è solo lungo e noioso ma onestamente non deve essere niente di difficile. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi io adesso le apro, se sono altri mobili, se ha comprato altre cose per l'ufficio tipo altre librerie, lo picchio e soprattutto li monta lui perché non le monto io. Quindi fatemi, fatemi spostare questo mobile qui così in caso devo costruire qualcos'altro non ci saranno problemi, quindi fatemi, vi metto qui così magari vi metto un po' più basse. Ok. Così, così, così vediamo cosa ha comprato questa volta questo uomo. Poi, poi... No, vabbè ragazzi, ma tra parentesi, ditemi che anche il vostro uomo vi si lamenta sempre di tutto lo shopping che fate voi, però sul shopping, ci lamentiamo del proprio shopping? Ok. 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 cosa facciamo lo chiamiamo perché oh mio dio mi sa che lo devo chiamare adesso allora ragazzi lo dobbiamo chiamare perché lo dobbiamo chiedere oh mio dio ragazzi no vabbè ok ragazzi chiamiamo Jay perché sono un attimo confusa sentiamo cosa è da dire hey what's up hi how are you baby are you good I just finished the meeting oh ok ok that's good I have a question for you ok um I got this two giant package home and that was the company name and then I opened it I opened it and there are two computers oh my god why did you open it I don't know I thought like I thought it was the TV or something or I thought it was the lamp did you buy did you bought us computer surprise birthday it came early oh my god the timing of this could have been a little better you're crazy oh my god oh my god oh my god that's so crazy oh my god baby that's so funny they arrived and they're not supposed to arrive until tomorrow and you're supposed to be out of the house I know and then I was like this guy came and it was so weird because they came two people like usually you know there's one UPS guy but there were two people and they were like checking that I was like signing and everything and then I was like can you guys please help me bring this because I thought it was so heavy and then I'm like oh no this thing is not heavy and then I was like oh whatever then I just opened it and I found our computer and I literally like out are you crazy? happy birthday oh ciao ragazzi ma direi che a Jay mi ha fatto la carambata carambata questo qui lo spostiamo in ufficio e spostò anche l'altro in ufficio così quando arriva Jay mi monta Jay perché io non sono capace ora che questo è fatto bisogna attaccare le scrivanie tan 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 ok di solito quando monto i mobili la prima cosa che faccio è metto tutti i pezzi diciamo di fronte a me in modo tale che li vedo e vedo cosa c'è il fatto che io abbia aperto la scatola dove ci sono i chiodi chiudini e questa qui è solo una busta e guardate quanti chiodi ci sono ci metterò 4 ore ok ho preso la decisione che ne monto 2 in contemporanea quindi faccio gli stessi passaggi con la prima con la seconda così li faccio una volta e non devo più rifarli perché secondo me ci metterò di meno non lo so se sarà vero o no quindi metto in ordine così in modo tale da dividere i pezzi non confondermi quindi facciamolo non confondermi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.